Canale 24, reportage dal futuro, è un tentativo di lanciare uno sguardo sul domani, su un futuro non ben identificato, magari fra 100, magari fra 200 anni. Lo facciamo con un gioco, immaginiamo di ricevere ogni settimana una notizia dal futuro, a partire da uno strano disturbo, da un strano fenomeno fisico che si è verificato qui a Radio 24 e a partire da questa notizia cercheremo di raccontare quali sono i presupposti, che cosa oggi indica che quella potrebbe effettivamente essere la strada. Parleremo di che cosa mangeremo, parleremo di come ci sposteremo, di come viaggeremo, di come useremo e spenderemo il denaro, di come lavoreremo, insomma tanti punti di vista diversi ogni domenica alle 7.15 qui su Radio 24.